sull'atto sono 26 si sull'atto che sta facendo 26 26 6 6 posto ci sono i due fittiani si ancora non abbiamo firmato il notario sta preparando l'atto ma aspettano in Campidoglio aspettiamo in Campidoglio il notario che ha preparato l'atto 26 nomi che firmerete tutti al Campidoglio ho la penna pronta per firmare 19 PD e gli altri 7 quindi che sarebbero gli altri c'è qualcuno che c'è la 21 maggioranza e più ci sono c'è la Celli si come regali ai 5 di opposizione 2 i 2 dei Marchini, Cantiani e 2 Fittiani anche Marchini era firmato